ma chi è che ami? chi è che ami? io ma sei matta? stai bene vestito di nero sembri una cisterna di petrolio la simpatia di jerry scott l'irriverente comicità di jenny gnocchi la bellezza delle ragazze di miss estate le sorprese dei dietro le qui festival bar musica e non solo direttamente dalla prica festival bar 92 martedì alle 20 e 30 su italia 1